Buongiorno, bentornati e bentornate al nono e ultimo episodio di G-Tech, una miniserie in cui stiamo esplorando gli aspetti tecnologici di una moderna piattaforma digitale a servizio delle assicurazioni. Io sono Ivano Mantegazza e sono un solution consultant di Guideware Italia. Nello scorso episodio abbiamo un po' filosofeggiato con Marco per quel che riguarda gli aspetti legati all'intelligenza artificiale generativa e come questi possono essere messi a servizio del mondo delle assicurazioni. Oggi invece parliamo di comunità. Ora qui con me c'è Massimo che già ci aveva fatto compagnia nel quarto episodio e che è Vice President dei servizi professionali a livello globale della practice dedicata alla nostra piattaforma e che ha molta esperienza sul campo e ci potrà aiutare a capire meglio questi aspetti. Ciao Massimo, come dire, ho parlato di comunità in senso generale ma cerchiamo di calare questo concetto nello specifico per quel che riguarda appunto una comunità a livello di diciamo piattaforme assicurative. Ci puoi aiutare a capire un po' meglio appunto il concetto e come poi questo ci aiuta e cosa serve. Ciao Ivano, allora proverò a rispondere alla tua domanda partendo dal concetto di comunità. Che cosa intendiamo noi per comunità all'interno del nostro contesto? Allora, comunità è un gruppo di persone che hanno uno o più interessi in comune che condividono conoscenze e si confrontano su dei temi. Ora, per le compagnie assicurative fino a pochi decenni fa era normale costruirsi un sistema core in casa tarato sui propri processi e sui propri clienti e questo ha funzionato benissimo per tantissimi anni. Quindi il concetto di comunità diciamo che a quei tempi era molto meno rilevante di quanto lo sia oggi. Qual è il problema oggigiorno? Oggigiorno c'è uno tsunami tecnologico in corso per cui le compagnie fanno fatica a starci dietro. Ci sono tutte queste tecnologie dalle più fortunate come il cloud alle meno fortunate come il blockchain ad altre che sono sulla cresta dell'onda, come detto prima parlando con Marco su generative AI e nell'LM, è starci dietro richiede un sacco di tempo e di conseguenza un importante investimento. Soprattutto starci dietro con piattaforme che magari sono state sviluppate 20-30 anni fa quando questi concetti che adesso sono la realtà esistevano a malapena nei libri di fantascienza di Asimov. Ecco, quando si è da soli combattere contro questo tsunami è veramente difficile. Quando si è invece una comunità e quindi io insieme a tutti i miei pari e alle altre compagnie assicurative discutiamo come queste tecnologie impatteranno il mercato, come regolamentare o comunque utilizzare queste tecnologie all'interno del mercato, inizia già a essere più facile. non sono più io da solo contro queste tecnologie ma siamo noi come gruppo. Ma il vantaggio vero e proprio di essere una comunità a mio avviso è quando c'è un fornitore di servizi comune all'interno della comunità che si occupa di fornire la piattaforma tecnologica a tutti i suoi membri. Ecco, allora lì sì che si vede il vantaggio perché c'è il fornitore che si preoccupa di integrare queste nuove tecnologie nella piattaforma. I membri della comunità si devono solamente occupare di immaginarsi come integrare queste nuove tecnologie nei processi, dimenticandosi completamente dell'aspetto tecnologico. Ecco, questo significa essere una comunità. Ebbè Massimo, mi sembrano come dire dei bei vantaggi e peraltro mi fa impressione pensare che effettivamente tecnologie che una volta erano solo sui libri di fantascienza adesso siano effettivamente realtà. Del resto, come dire, un po' di primavere sono passate. Ma hai parlato e hai citato, come dire, il confronto e la condivisione. Mi sembrano degli aspetti importanti appunto all'interno della comunità. Esploriamo un po' meglio questo concetto. Come si fa? Certo, allora, viviamo in un periodo storico in cui condividere, confrontarsi è facilissimo. E te lo dice una persona che viaggia spesso per lavoro, comunque riesce a mantenersi in contatto con la propria famiglia in qualunque secondo. Ci sono tutte le applicazioni, il telefono, il computer e così via. Quindi, confrontarsi e condividere conoscenze è diventato facilissimo. Però, devo essere onesto, su alcune cose io sono un po' vecchio a scuola e non c'è niente di meglio di una chiacchierata visto visto, come stiamo facendo noi, per discutere di qualcosa. Ecco, quindi, come si condividono le conoscenze? Mettendoci insieme, nello stesso posto e discutendo. Qual è il problema? Il problema che si vede, che molte volte, che io o compagnia assicurativa, non voglio discutere con i miei competitor delle nuove tecnologie, di come sfruttare queste nuove tecnologie, perché altrimenti rischio di darmi la zappa sui piedi, se mi permetti la metafora. Ecco, torniamo all'esempio precedente. Quando invece all'interno della comunità c'è un fornitore di servizi comune, diventa tutto più semplice. Perché? Perché c'è questo fornitore di servizi che si occupa di organizzare questa opportunità d'incontro. All'interno di questa opportunità d'incontro viene data visibilità e rilevanza ai propri membri che stanno facendo cose interessanti con la piattaforma. Quindi, io che partecipo a questi eventi, ascolto, imparo dagli altri, faccio mia questa conoscenza, l'adatto al mio contesto, e a quel punto mi evolvo. Non è così che l'umanità ha sempre fatto per evolversi. Beh, è verissimo Massimo, e appunto concordo con te sul fatto che, vuol dire, alle volte è più utile sedersi intorno a un tavolo e discutere, appunto, come stiamo facendo adesso, perché appunto ci sono anche tanti altri strumenti digitali che ci aiutano nella quotidianità. E, come dire, mi viene però da pensare, perché appunto le piattaforme SaaS, pass, esistono da poco e che questa comunità esista, come dire, più sulla carta, ma non ci sia ancora nella realtà, sia più un'idea. È così oppure mi sto sbagliando? Secondo me ti stai sbagliando e non di poco. Sono tantissime a livello mondiale compagnie assicurative che hanno già abbandonato i vecchi sistemi core costruiti in casa e sostituiti con una piattaforma SaaS. Sono sempre di più ogni anno, ce ne sono molte che ci stanno andando e molte che già le utilizzano da anni. Quindi, assolutamente, questo non è il passato, ma è il presente. Ora, questo cambiamento che sta avvenendo all'interno delle compagnie assicurative è un cambiamento che in altri mercati, in altri settori è già accaduto da parecchio tempo. Mi piace sempre ricordare, essendo un informatico, la storia di Netflix e Blockbuster. Avevamo una visione diversa del futuro, c'era chi la pensava in un modo e chi la pensava in un'altra. Sappiamo tutti, però, chi la pensava nella maniera sbagliata che fino ha fatto. Per le compagnie assicurative è lo stesso. Il futuro è oggi. Malcolm X dice che il futuro appartiene a chi si prepara per esso oggi. E io sono perfettamente d'accordo. Non posso che concordare anch'io, Massimo. E, peraltro, stavo pensando anche a quel che diceva Marco nello scorso episodio, dove, appunto, le novità, quando arrivano, spaventano un po', ma poi, dopo questo primo attimo di spaesamento, ci si deve adattare e capire come sfruttarle al meglio, proprio perché solo chi saprà, come dire, adattarsi e sfruttarle sarà poi vincente. E, come dire, anche questo riguarda sia le comunità digitali, le comunità assicurative e, come dici tu, anche le comunità umane. Quindi, grazie Massimo per averci fatto fare questa importante riflessione, anche per quel che riguarda le comunità assicurative. Bene, con oggi chiudiamo questa miniserie G-Tech che ci ha portato a scoprire i vari aspetti tecnologici e, se volete, anche filosofici di una moderna piattaforma per le assicurazioni. Vi ringraziamo per essere arrivati fino qua e, se per caso voleste approfondire alcuni degli aspetti che abbiamo trattato, non esitate a contattarci. Vi aspettiamo.